Due armi che potrebbero essere state utilizzate dai killer che il 17 marzo scorso hanno ucciso in un agguato su un raccordo della statale 106 Ionica, il detenuto in semilibertà Cosimo Orlando, di 43 anni, la sua compagna Carla Maria Fornari, di 30, e il figlio della donna Domenico, di appena due anni e mezzo, sono state trovate nei giorni scorsi in agro di Palagiano. Si tratterebbe stando a indiscrezioni di una pistola e di un fucile. Sul ritrovamento di armi non ci sono conferme ufficiali, visto il silenzio sulle indagini imposto dal procuratore distrettuale antimafia di Lecce, Cataldo Motta. Se fosse confermato che si tratta delle armi usate nell'agguato, per la prima volta emergerebbe dalle indagini il particolare dell'utilizzo di un fucile e non solo di pistole. Le armi sarebbero state rinvenute non distanti da un'auto Opel Astra rubata, trovata completamente bruciata in località Chiatona, nelle campagne di Palagiano, poco tempo dopo il delitto e che si sospetta sia quella usata dagli assassini nell'agguato. Gli investigatori stanno eseguendo accertamenti anche su un'altra vettura ritrovata in zona che potrebbe essere stata utilizzata dai killer durante la fuga.